come ieri sera un applauso per Luca Crovi e un applauso per Giovanni Bruschetti sindaco di Massagno so che ieri vi siete divertiti a vedere il film di Maigret avete apprezzato la cena francese fatta dal Coldesina vi siete divertiti un sacco a sentire Schiavone Bruno Gambarotta anche questa sarà una serata speciale dedicata a Simenon con un sacco di sorprese alle quali assisterete la prima è la continuazione della passerella che Luca Crovi per tre giorni farà con le sue t-shirt eccolo in completo rosso nero ma questa soprattutto è una maglietta dedicata a tutti gli interisti come il sindaco perché è la maglietta che i Rolling Stone hanno fatto per quando il Milan ha vinto lo scudetto è quella che terranno nel cassetto fra un po' di giorni a Istanbul come avete capito noi siamo Gianni e Pinotto detto questo sei contento sì sono contento ma penso che soprattutto sono contenti gli spettatori il nostro pubblico che stasera inizia per la seconda serata questa diciannovesima edizione di tutti i colori del giallo che ormai è da qualche anno che ci impegna ci impegna specialmente dopo aver trovato un nuovo direttore particolarmente dinamico che ci fa che fa lavorare io non faccio niente ma che fa lavorare la truppa come pochi e devo dire che i risultati sono sono importanti grazie grazie Luca ancora un applauso grazie a voi per la fiducia parlavo della diciannovesima edizione e naturalmente non si può non ringraziare chi ci sostiene da così tanti anni gli sponsor attuali gli sponsor passati e quegli sponsor che ci accompagnano fin dalla prima edizione nel caso specifico stasera la la serata il nostro incontro è dedicato un incontro particolare per la spinelli sa spinelli sa che dicevo è fin dal 2005 che ci accompagna in questa in questa avventura in questo senso oggi mi è particolarmente caro il ricordo di Renzo Spinelli Renzo Spinelli che per me è stato soprattutto un amico e un collega e tra le tante cose per ricordarlo meglio è proprio guardarsi intorno in questa in questo contenitore che il cinema lux e andare con la memoria almeno per me è una trentina di anni fa quando insieme siamo entrati come neomunicipali nel municipio di Massagno e siamo stati lui in particolare come capo di castello della cultura confrontato con un problema non da poco questo contenitore era un contenitore vuoto e chiuso il cinema lux era alcuni anni non lo utilizzavamo da alcuni anni e quindi lui insieme a Fabrizio Quadranti si sono dati la pena di inventare la nuova vita del cinema lux e figuratevi forse alcuni di voi lo sanno sono andati fino in Vietnam a cercare il gestore il Goyen Maurice Goyen che forse alcuni di voi ricorderanno che ad agio ad agio ha portato nuova vita a questo cinema un cinema che poi ad agio ad agio è nuovamente entrato nell'animo e nel cuore dei massagnesi e che da qualche anno con nostra grande soddisfazione è gestito da Gioel Fioroni con i risultati che voi tutti sapete e in questo senso appunto ricordando l'amico Lorenzo chiamerei Dario Spinelli il figlio e il CEO della Spinelli SA per un saluto e soprattutto da parte mia un grande ringraziamento buonasera a tutti anche da parte mia grazie Giovanni grazie a tutta l'organizzazione per questo bel evento è emozionante venire qui oggi perché di solito c'era qua mio papà si è proprio un luogo che porta molta energia stasera ringrazio tutti per la vostra presenza e godiamoci questo questo evento grazie a tutti grazie mille grazie mille Dario grazie Dario e adesso evidentemente la parola a colui che è un milanista mascherato da Rolling Stones grazie a tutti grazie a Spinelli tra l'altro Lorenzo Spinelli quando sono venuto qua per l'inaugurazione dell'anno a Massagno cantava nella corale e dopo aver cantato nella corale mi ha preso da parte e mi ha detto ma quest'anno che cosa porta ed è stato l'unico a sapere in anteprima che il titolo della manifestazione sarebbe stato Effetto Simenon in questo momento vorrei portarvi sul palco una persona che mi emoziona per aver accettato di essere venuta a questo festival che è Ena Marchi che da anni cura per Adelphi le edizioni le traduzioni e sceglie i titoli di Simenon da ripubblicare e che ci ha permesso anche di raccontare Simenon in una maniera incredibile l'intervista impossibile di ieri sera che vi ha letto Gambarotta è stata riletta e controllata da Ena ma prima di iniziare a intervistarla e raccontarvi delle curiosità su di lei e sul suo lavoro Sindaco ma abbiamo qualcosa di speciale noi che possiamo dare a Ena Marchi un premio che le consegniamo questa sera venga lei che è la mia valletta in questo momento e consegni alla Ena Marchi il giusto premio meritato per il lavoro che ha fatto in questi anni e questa è una sorpresa e te la porterai direttamente in quel di Milano fateci una foto con Ena e adesso possiamo sederci e raccontarci allora dovete sapere che noi ci siamo incontrati per la prima volta quest'anno radiofonicamente perché Adelfi ha deciso di pubblicare una nuova edizione dell'Orsacchiotto la cosa divertente di questa intervista che abbiamo fatto insieme per Radio Popolare è che lei raccontava la nuova edizione e io raccontavo quella vecchia tradotta da mia mamma e quindi era curioso che a distanza di 57 anni Adelfi ritraducesse un titolo che io avevo nell'archivio di famiglia mia mamma mi ha detto che me lo dà solo se faccio il bravo tra qualche anno eh c'ha 80 anni quindi tenete presente che me lo tiene da parte allora Ena è cresciuta a Napoli la prima domanda che le faccio è come ti sei avvicinata a Simenon come ci sei arrivata in quell'universo? beh quando ero ragazzina leggevo Simenon di nascosto perché per mia madre beh innanzitutto buonasera a tutti grazie per essere stata invitata qui grazie per l'invito è stato bellissimo quando andando via da Milano in treno la luce è cambiata e mi sono trovata in questa meraviglia di verde e di splendore e sono molto contenta di essere qui eh allora da ragazzina leggevo Simenon ma lo leggevo di nascosto perché mia madre che sorvegliava molto le mie letture eh lo trovava un po' così troppo ardito diciamo scabroso come si diceva allora e non aveva tutti i torti perché effettivamente Simenon un po' lo è e poi ho smesso di leggerlo poi mi è capitato quando ero all'università e nelle buone famiglie borghesi ti davano i soldi per l'università per i vestiti, per i medici, per i viaggi però l'argento poste lo dovevi guadagnare tu e allora io che non amavo tanto fare la babysitter come le mie compagne di università facevo la figurante alla RAI e come sei stata selezionata? beh sono stata selezionata perché c'avevo un amico che lavorava lì dentro e quindi mi ha detto vieni a fare la figurante che poi è un bravo commediografo perché vabbè Maglio Santanelli che è stato un bravo commediografo e allora ho fatto la figurante in un sacco di cose il segno del comando però di Daniele Danza e ho fatto anche la figurante nelle ultime alcune delle ultime puntate dell'ultima serie dei Megrei con Gino Cervi che sono state girate a Napoli perché all'epoca si chiamavano sceneggiati molti di voi forse si possono portare un po' d'acqua un po' d'acqua sì credo sia l'acqua si giravano a Napoli moltissimi sceneggiati televisivi e tra questi grazie infinite e tra questi gli ultimi Megrei non so se lo sapete ma in Italia quando c'era una sola rete i più giovani non si possono nemmeno immaginare che cosa sia vivere in un paese dove il televisore ha una sola rete nel 1966 la RAI decide di trasmettere le inchieste del commissario di Megrei e tra il 1966 e il 72 quando di reti ce n'erano due la domenica sera tutti quelli che avevano un televisore vedevano il commissario Megrei e quindi era una specie di enorme successo popolare con Gino Cervi Mario Maranzana e i più grandi attori di prosa come si diceva allora che esistevano in Italia hanno recitato in qualcuno di questi 36 episodi perché ne sono andati in onda 36 tra il 66 e il 72 delle inchieste del commissario Megrei e io ho fatto anche la figurante in uno di questi allora immaginatevi una una super serie allora il segretario di produzione era Andrea Camilleri c'era Mario Landi alla regia c'era Diego Fabri che si occupava della parte teatrale della scelta dei testi quindi una produzione importantissima la scelta di mettere una colonna sonora affidata a Luigi Tenco con un pezzo che un giorno dopo l'altro che ha fatto la storia della canzone d'Italia una serie di riprese in esterno che erano ridotte al minimo perché la RAI non si poteva permettere questi costi e la serie di Megrei che oltre a diventare una serie popolare in televisione diventa una serie di grandissimo successo pubblicata da Mondadori Mondadori ovviamente non ha scoperto Megre e Simenon in quegli anni lì lo pubblicava continuativamente tranne il periodo della guerra dal 1931 perché ci fu una lettera mandata da Luigi Montano che è l'inventore dei gialli Mondadori che chiese esplicitamente a Arnoldo Mondadori di scommettere su questo giovane autore francese che pubblicava già Megre dicendo ma questo è un grande successo compriamolo adesso lo pagheremo meno lo portiamo via alle altre case e se lo prende in anteprima possiamo dire Mondadori se lo prende in anteprima e il rapporto tra Simenon e Mondadori dura 50 anni cioè una lunghissima fedeltà tra Simenon e soprattutto Arnoldo Mondadori Simenon era esigentissimo con i suoi editori la prima volta che quando lui in Francia a metà degli anni 30 passa nella famosa scuderia Gallimard che era ed è ancora il più grande editore francese con il vecchio grande Gaston Gallimard che era un editore è veramente anche lui tostissimo Simenon gli dice guardi noi non pranzeremo mai insieme io non vado a pranzo con i miei editori mentre con il suo editori italiano mangiava e andava anche a giocare a bocce oltre che a carte è evidentemente sì ma Mondadori ha con Mondadori un rapporto eccellente il problema qual è è che negli anni 30 e negli anni 40 Simenon era considerato veramente un autore scavroso cioè voi forse non lo tenete ben a mente ma negli anni 30 e 40 non usciva nessun libro se non aveva il visto della censura e moltissimi dei romanzi di Simenon quelli senza Maigret questo visto della censura non ce l'avevano durante il fascismo per esempio nessuno si suicidava almeno questo ufficialmente non era contemplato e nei romanzi di Simenon la gente si suicida allora ci sono questi pareri della Mondadori in cui c'è scritto qua c'è un suicidio e non lo possiamo togliere perché nelle traduzioni all'epoca se si poteva si ammorbidiva si spostava anche qualcosina quindi tra le due guerre Simenon nonostante gli sforzi della Mondadori per pubblicare i suoi romanzi non ha particolare successo nel dopoguerra diciamo l'atmosfera culturale in Italia non era tale da far accettare facilmente uno scrittore come Simenon perché c'era la letteratura post resistenziale il neorealismo lo sperimentalismo cioè gli autori importanti in quel momento erano non erano dei narratori puri non solo ma c'era questa grande separazione questa frontiera tra la letteratura alta e la letteratura bassa e Simenon era letteratura bassa e tra l'altro Mondadori per sdoganarlo decide di fargli fare persino un giro nell'università italiana scegliendo degli interlocutori particolari tipo Carlo Bo e per sdoganarlo sui giornali importanti nel 1952 il Corriere della Sera in carica di intervistarlo e spiegare il suo metodo di scrittura un signore che si chiamava Eugenio Montale che commenta le opere di questo scrittore visto come giallista ma anche come qualcosa d'altro e che analizza la sua qualità di scrittura e la paragona alla scrittura della poesia ovviamente immaginatevi che operazione culturale è questa cioè vuol dire lanciarlo rilanciarlo portarlo al pubblico fargli fare il giro e quindi imporlo in qualche modo ma non ci riescono ma non ci riescono Mondadori non ci riesce riesce solo con i Maigret riesce solo con i Maigret e a partire appunto dal 1966 cioè dal momento in cui Maigret è in televisione l'altro Simonon non esiste più quindi in qualche modo Maigret soffoca il Simonon dei romanzi senza Maigret e e arriva poi un momento Simonon smette di scrivere nel 72 esattamente perché decide che non ne può più che ha scritto da quando aveva 16 anni e quindi nel 72 ne ha quasi 70 lui è del 1903 smette di scrivere e comincia soltanto a dettare le sue memorie detta detta sono dei volumi enormi così piuttosto noiosi secondo me ed è la cosa che lui vuole pubblicare e anzi obbliga gli editori a pubblicarli integralmente anche le appendici quelle robe che noi diciamo queste qua magari le togliamo e Mondadori non li vuole Mondadori non li vuole e quando Simonon riprende in mano la penna perché Simonon riprende a scrivere riprende a scrivere dopo il suicidio della figlia Simonon ha quattro figli uno dalla prima moglie che era belga e tre dalla seconda moglie che era canadese e tra questi tre della seconda moglie c'è Marie-Georges detta Marie-Jo la quale si suicida a 18 anni quella che ormai è diventata la seconda ex moglie di Simonon lo accusa pubblicamente di essere responsabile responsabile di questo suicidio e Simonon decide di scrivere le sue memorie non solo ma di pubblicarle con in appendice le trascrizioni veramente patetic come dicono i francesi cioè veramente strazianti di certe registrazioni che la stessa Marie-Georges aveva lasciato una mappazza così come si dice a Milano e Mondadori dice no e Simonon comincia a essere scontento anche perché Mondadori non aveva voluto pubblicare un altro suo libro autobiografico cioè lettera a mia madre e allora Simonon comincia a guardarsi in giro e viene a saperlo Roberto Calasso che è il direttore editoriale di Adelphi che ha sempre considerato Simonon un grandissimo scrittore allora che cosa fa Calasso? attraverso due perché a questo punto Simonon che aveva vissuto dappertutto in giro per il mondo tenete presente che Simonon ha cambiato 33 volte casa in vita sua io devo fare un trasloco a fine mese già questo mi spaventa lui 33 volte comunque aveva vissuto negli Stati Uniti aveva vissuto in Costa Azzurra aveva vissuto a Parigi aveva vissuto in Vandea e poi aveva deciso che il posto migliore era a Lausanna e quindi viveva a Lausanna con quella che è stata la sua ultima compagna un'italiana e tra l'altro ci viene trovata dalla segretaria di Mondadori perché Simonon cercava una una domestica e all'epoca le domestiche venivano dal Friuli almeno a Milano nelle buone famiglie e la segretaria di Mondadori gli trova questa Teresa Sburelin che quando Simonon è morto ha avuto la grande eleganza di scomparire non solo non ha mai voluto una lira ma non si è mai fatta intervistare niente è scomparsa comunque Simonon viveva a Lausanna e aveva due amici svizzeri no uno non era svizzero ma era un serbo trapiantato a Lausanna che si chiamava Vladimir Dimitrievic era un serbo che in modo avventuroso era scappato dalla Serbia e aveva fondato una casa editrice a Lausanna che esiste ancora che si chiama Les Editions L'Ajdom una bellissima casa editrice che ha pubblicato tutti lui riusciva ad avere tutti i libri dei dissidenti dell'est va bene e un altro era l'editore in lingua tedesca di Simonon che si chiamava Michael Kruger che però era Zurigo questi due eh fanno in modo che Calasso possa incontrare Simonon e Calasso dice a Simonon guarda vieni in Adelphi io ti pubblico nella stessa collana la biblioteca Adelphi nella quale io pubblico i miei grandi scrittori da Joseph Roth a Canetti da Karen Blixen eh a Shasha tutti quelli io li pubblico lì con traduzioni straordinarie una cura redazionale come la la facciamo soltanto noi eh copertine la carta i risvolti tutto sarà sarà perfetto ma Simonon esita ancora a lasciare però c'è l'intervento di un suo amico possiamo dire però c'è l'intervento di un suo amico c'è l'intervento di Federico Fellini perché Simonon aveva dato diciamo eh quando nel 1960 Simonon era stato il presidente del jury di Cannes del festival di Cannes eh e c'erano dei film straordinari in quella per dire c'era l'avventura di Antonioni c'erano dei film bellissimi c'era un film di Bugnoel c'era ehm e c'era la dolce vita e Simonon si era battuto in quanto presidente del della giuria per fare avere la palma d'oro alla dolce vita da quel momento erano diventati amici e si scambiavano delle lettere che secondo me non sono molto interessanti però sono divertenti perché sono umane insomma sì mio caro Fellini è un libro che per l'appassionato di cinema ci va a cercare il cinema appassionato di letteratura però secondo me è divertente come si fanno grandi complimenti ma non è che parlino di cose comunque fatto sta che Simonon chiede a Fellini ma com'è questa Delfi e Fellini gli dice beh guarda veramente è una buona casa editrice è quello che ti ha detto Calasso e cioè che le copertine sono belle che le traduzioni sono buone che la cura editoriale è molto buona e così nel 1984 il contratto che Simonon aveva con Mondadori passa ad Adelfi e passa per i romanzi senza Megret quelli che che Simonon chiamava i suoi romanzi duri quando gli chiedevano perché li chiami romanzi duri lui diceva perché sono duri da scrivere ieri sera però sono duri anche anche dal punto di vista del contenuto anche da leggere sì ma sono duri da scrivere perché come vi aveva raccontato ieri sera Gambarotta Simonon li scriveva identificandosi totalmente con questi personaggi che vanno in crisi perché nei romanzi di Simonon è questo che succede c'è un equilibrio instabile che si rompe e questi personaggi sono trasportati fino in fondo al loro destino che in genere è un destino fatale i Megret no i Megret non erano difficili da scrivere non erano durissimi Simonon li scriveva a macchina fischiettando diceva lui stesso diceva così perché Megret è fondamentalmente un personaggio rassicurante è un riparatore di destini come diceva lui stesso Sì ma quanto è sorprendente che Megret ha un grandissimo successo prima Adelfi prende il catalogo e comincia a pubblicare i romanzi duri e i romanzi duri diventano quelli più letti quelli più riscoperti e ma perché era cambiato perché quella quella temperie culturale per usare un termine colto dell'immediato dopo guerra era cambiato quella frontiera tra la letteratura alta e la letteratura bassa era molto più sfumata e soprattutto era arrivato il momento alla fine alla metà degli anni 80 perché appunto i primi romanzi il primo romanzo noi pubblichiamo per primo lettera a mia madre e poi che diventa un grande successo editoriale e poi pubblichiamo nell'autunno dell'85 io non c'era ancora veramente pubblichiamo le finestre di fronte che è questo romanzo straordinario in cui Simanon riversa tutto quello che lui aveva capito durante il suo viaggio in Russia del 33 naturalmente improvvisamente un narratore puro come Simanon viene scoperto dalla critica e dai lettori tant'è vero che ci sono dei critici ma non dei critici qualsiasi gente come Giulio Nascimbeni Goffredo Parise i quali dicono ma quando li pubblicava Mondadori questi romanzi noi dove eravamo? in realtà in realtà non li pubblicava ma sì o comunque erano pubblicati parallelamente in ambiti che non venivano guardati il problema è che non non era ancora il momento perché Simanon fosse capito a partire da metà degli anni 80 naturalmente Calasso che cosa fa? pubblica per primi quelli che gli piacciono di più quelli che lui considera più belli e che infatti sono tra i più belli anche se ancora adesso io riesco a tirar fuori da questa io devo dire che gli ultimi due l'orsacchiotto le sorelle della qua sono delle bombe da leggere ma infatti sono molto belli ma i primi sono formidabili l'uomo che guardava passare i treni le finestre di fronte la neve era sporca la neve era sporca lettera al mio giudice e finché arriviamo quello che è stato il successo più travolgente è tre camere a Manhattan nel quale noi siamo riusciti a vendere centomila copie i francesi non ci credono addirittura perché quello è il vero romanzo d'amore che scrive Simonon tre camere a Manhattan dal quale purtroppo il grande Marcel Carnet ha tratto un film con due grandissimi attori Maurice Ronet e Annie Girardot ma non gli è venuto tanto bene il romanzo invece è formidabile è la storia d'amore e quando Simonon racconta in modo naturalmente fictional il suo incontro con quella che sarà poi il grande amore e la sua vita e cioè la sua seconda moglie appunto a New York tenendo presente che Simonon ha scritto una quantità incredibile di romanzi che non hanno finito ancora di schedare com'è stata la selezione fatta da Delphi rispetto ai titoli hai detto Calasso ha pubblicato i primi quelli che gli piacevano di più allora Calasso ha pubblicato non solo quelli che gli piacevano di più ma quelli che aveva letto perché dopo bisognava leggerli esatto non c'erano versioni da recuperare esattamente quindi nei primi 6-7 anni lui ha pubblicato quelli che quelli che aveva letto oppure quelli appunto che ne so lo stesso Fellini gli diceva leggi questo perché questo è uno dei miei preferiti e tra l'altro quello che Fellini considerava il suo preferito noi non l'abbiamo ancora pubblicato credo che lo pubblicherò lo pubblicheremo tra un paio d'anni e mi chiedo ancora perché Fellini lo consideri il suo preferito poi quando uscirà probabilmente c'è qualcosa nella sua memoria che gli risvegliava senti ma tu come sei stata convinta a andare a lavorare come traduttrice per Adelfi perché per un po' tu lavoravi dalla Francia no? non eri sul territorio italiano io vivevo a Parigi prolungando abusivamente come direbbe Totò una lunga adolescente sì insegnavo insegnavo all'università facevo cose vedevo gente insomma insomma è vero che andavo al cinema tra le tante cose che hai fatto hai fatto anche da traduttrice cicciolina sì ma questo tu come lo sai l'hai letto a qualche parte no dovete dopo vi dico che è la voce della serva come è capitato che hai traduttrice cicciolina ma sì perché in Francia si pagano le tasse a febbraio e quindi se a febbraio ti propongono qualche cosa tu accetti e quindi lì mi hanno quindi ti ha telefonato cicciolina o il suo agente? no no mi ha telefonato un'agenzia di interpreti e mi hanno detto che il loro interprete era malato e quindi mi hanno proposto io ho passato tre giorni con questa mi hanno detto no bisogna fare da interprete a un parlamentare italiano io ho detto subito certo che problema c'è e poi mi sono trovata davanti no quanto ti sei divertita dai mi sono divertita abbastanza sì mi sono divertita abbastanza sì sì tra lei e Schicchi erano due persone parlavano sempre di soldi non parlavano mai di sesso ma sempre di soldi vabbè comunque no e che a un certo punto un giorno d'estate nella biblioteca nazionale dove fingevo di scrivere la mia test quasi un ciclo ho conosciuto Alberto Calasso e a un certo punto prima mi ha proposto di fare una traduzione poi una seconda traduzione poi mi ha proposto di fare una revisione poi una revisione ho fatto un percorso iniziatico che manco l'uomo chiamato cavallo ti ricordi quando mi appendo sì te lo tortura noi esatto e poi a un certo punto Calasso è venuto a Parigi e mi ha detto adesso basta adesso basta di stare a Parigi adesso vieni a lavorare a Milano con me ma è facile tradurlo Simenon no no perché i termini sarebbero sei termini semplici no 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 allora Simenon ha in apparenza una scrittura molto limpida il problema è che questa limpidezza viene fuori da una sua scelta precisa qualcuno un giorno disse a Simenon ma lo sa che lei usa soltanto duemila parole per scrivere i suoi romanzi e lui rispose così tante perché lui pensava il suo obiettivo era quello di usare soltanto dei mots matières delle parole materia che è una cosa abbastanza interessante perché lui che cosa vuole lui vuole che se Maigret una sera di luglio è affacciato alla finestra della sua casa di boulevard Richard Lenoir che cosa vuole restituire Simenon al lettore vuole restituire il fatto che la gente che passa non è tanta ma come è vestita e come cammina la gente lui gli vuole far vedere questa specie di di stravaccamento da sera estiva no e poi tutti hanno la radio accesa parliamo ancora di radio e non di televisione e Maigret e tutti hanno le finestre aperte ma tutti hanno la radio su dei programmi diversi e quindi Simenon ci vuole far sentire questa specie di brouhaha come dicono i francesi che 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 arriva dalle finestre aperte e poi qual è la temperatura e Maigret ha le maniche della camicia e ovviamente non ha più il colletto rigido ma se l'è tolto e ha alle bretelle le maniche delle camicie arrotolate e che odori ci sono nell'aria e che odori arrivano dalla cucina dove sta cucinando la signora Maigret e così è tutto Simenon Simenon vuole far sentire al lettore gli odori la consistenza di una stoffa uno scambio di sguardi ehm il sapore di qualche cosa ehm tutti i personaggi di Maigret di Simenon compreso Maigret entrano in una stanza e sentono gli odori che ci sono e poi ehm gli atteggiamenti delle persone e come si muovono per questo per creare le sue atmosfere e per far vedere al lettore quello che succede Simenon non sceglie mai la parola più letteraria più bella Simenon se ne infischia del bello Simenon vuole le parole più precise più precise più ehm che diano al lettore esattamente il senso di quel mese di novembre in cui appunto Maigret è nel suo ufficio e continua a riempire la stufa perché è freddolosissimo ehm oppure una mattinata di primavera in cui ehm Maigret è nel suo ufficio e vede le chiatte passare sulla senna perché il suo ufficio è anche desorfebre quindi vede la senna però vede anche le ragazze che si sono tolte il cappotto e hanno le prime camicette estive e quindi Simenon ti vuole sempre far vedere sentire le cose e quindi bisogna essere precisissimi nel traduzione Ovviamente questi segreti di scrittura i nostri protagonisti della seconda parte della serata cioè Andrea Pazzioli Cristina Cassascalia e Bruno Morchio li hanno imparati a memoria sono lì a parte quello che dimenticano stanno prendendo appunti ma ovviamente stiamo parlando di un Simenon quasi artigiano strutturale programmatico piccolo ingegnere nella costruzione di questi libri però ci sono anche dei libri disperati come lettera a mia madre e dei libri invece divertenti allora in sala c'è il capo della polizia di Massagno e Ena è andata al banco perché sperava di trovare il libro in cui Simenon porta Megret insomma a raccontarci l'interno sostanzialmente della polizia che è capito a Simenon di essere invitato dalla polizia a vedere la loro sede eh sì perché qual era il problema è che quando Simenon dunque tra i 20 e i 30 anni tra i 20 e i 29 anni diciamo Simenon quando lascia Bruxelles per andare a Parigi perché appunto doveva conquistare il suo Baton de Maréchal come avrebbe detto Stendhal ehm lui per vivere scrive ma scrive 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 lui scriveva 70-80 pagine al giorno di robaccia senza firmarla però questo gli serve e lui lo ammette a capire come bisogna scrivere cioè lui scrive questa letteratura che lui chiama Alimonter cioè quelle che oggi volgarmente chiameremmo Marchette per dire uno fa delle cose per vivere e poi a lui piaceva vivere bene quindi scriveva tantissimo e scrive per più di 10 anni con 18 pseudonimi i più strani e scrive racconti erotici racconti comici e per esempio racconta eh scrive racconti di viaggio fino a quel momento lui non aveva mai viaggiato e però si compra un mappamondo un mappamondo qualche enciclopedia e così scrive racconti di viaggio quando comincia a scrivere racconti polizieschi lui non sa niente di come funziona la polizia e quando comincia a scrivere le inchieste di di megrè lui non ha mai messo piede al Ché des Offers cioè alla questura di Parigi e e alla polizia questi libri vengono letti ma tutti si fanno grasse risate dicendo che quello che lui scrive non è realistico non è realistico per cui decidono di invitarlo allora lo invitano lo invitano lo invitano e e lui passa allora lui non solo va lì ma chiede di vedere tutto tutto lui vuole assistere agli interrogatori vedere quando fotografano i le persone che sono state arrestate vuole scendere addirittura a vedere com'è il carcere come si dice quello dove vengono detenuti in attesa di essere interrogati e poi va su a vedere come funziona lo schedario e come lavora la scientifica lui vuole vedere tutto e c'è un libro che abbiamo pubblicato quest'autunno che si chiama dietro le quinte della polizia che era quello che volevo regalare appunto ma lì i brai non l'hanno portato in cui lui racconta appunto è molto divertente perché lui non solo racconta come funziona come funzionava allora la polizia ma racconta per esempio nei primi capitoli anche una cosa che per noi adesso è inconcepibile cioè la partenza dei forzati da lì del re verso la la guiana francese e quindi questi ancora con le catene ai piedi con molto molto impressionante e poi è formidabile perché naturalmente lui da buon da buon conservatore come è sempre stato lui è d'accordo con i poliziotti che dicono ma tutte queste nuove leggi che bisogna stare a te non bisogna torturarli no ma dai quando gli si torturava un po' quattro schiaffoni andava molto meglio però è molto divertente è molto divertente anche perché è siccome appunto è un reportage scritto a metà degli anni trenta è anche un come si direbbe un affresco sociale della Parigi di quegli anni senti se ti capitasse di andare su un'isola deserta e potessi portare non uno perché uno è poco tre libri di Semenon cosa ti porti? ma è difficilissimo e no ne hai solo tre perché è difficilissimo sei deportata alla Guiana per forza il problema sai qual è è che ogni volta che ogni volta che ne pubblichi uno nuovo ti affezioni a quello non solo questo perché allora il lavoro che faccio io io non traduco direttamente io cerco il traduttore giusto poi noi rileggiamo sistematicamente e non io soltanto ci sono anche i giovani redattori noi facciamo più letture delle traduzioni e in particolare appunto io mi occupo di quelli di Semenon ma siamo in tanti a farlo e ogni volta che ne scopro uno dico perbacco però due anni fa per esempio quando ho pubblicato questo che si chiama La mano che si svolge nel Connecticut sotto una tempesta di neve e che è un libro incredibile insomma è veramente di una forza scritto nel 68 noi facevamo altre cose nel 68 e lui scriveva quello e ogni volta che è un grande successo e dal quale invece è stato tratto un bel film che si chiama Il primo genito dei Fersho quello è un bellissimo libro poi ce n'è una e lì è stato ne è stato tratto un film con un giovanissimo Jean Paul Belmondo molto bello veramente molto bello poi poi sicuramente uno che si chiama Il fantasmi del cappellaio che è un libro formidabile un romanzo formidabile tutto giocato sul guardarsi sullo sguardo e da quello il grande Chabrol che Dio lo abbia in gloria ha fatto un film meraviglioso ha fatto un film meraviglioso con Michel Serot che fa il cappellaio e di fronte c'è il piccolo sarto armeno miserabile pieno di figli che puzza di aglio ed era Shah Asnavur formidabile e il terzo credo che sarebbe il terzo credo che sarebbe lettera al mio giudice che è un libro molto bello ovviamente questo giochino poi lo facciamo anche con quelli dopo cioè nel senso che ognuno vi consiglierà un suo libro speciale secondo te perché a distanza di così tanti anni non è invecchiato? sono storie universali le sue possiamo dire tragedie che potrebbero succedere anche adesso ma sì ma infatti questo sono stata intervistata da un giornale qui del Ticino e mi hanno chiesto la stessa cosa ed è curioso perché io non mi pongo neanche questa domanda nel senso che mi è difficile rispondere proprio perché quando io comincio a leggere ormai li ho letti quasi tutti me ne mancano una ventina su 120 130 ogni volta che comincio a leggere che questa cosa si svolga nell'Africa coloniale o nella provincia francese negli anni 30 o appunto negli Stati Uniti negli anni 50 per me è attualissimo perché lui di che cosa parla? dell'amore della paura della solitudine della viltà dell'invidia della gelosia della rapacità appunto dell'amore per il denaro per esempio della violenza della disperazione dell'entrare in crisi poi naturalmente uno può dire sì però lui ha questi stereotipi femminili sì certo ci piace non ci piace però ha una tale capacità diciamo usiamo un'espressione abusata di scavare nell'animo umano che è veramente allora io vorrei fare il chapeau invece per Ena Marchi vi fate un grande applauso e mentre lei scende con il suo meritato regalo io invito a salire sul palco un autore che in Italia è pubblicato da Guanda ma che avrebbe sognato di essere pubblicato da Delfi Andrea Fazioli che ovviamente è una vostra gloria a Svizzera allora Andrea poi avrà l'onere di condurre la seconda parte di questa serata prima della cena che vi ricordo sarà una cena siciliana speciale e Andrea ci devi dire uno qual è il tuo romanzo preferito di Simenon? è sempre una domanda difficile lo dico anch'io però ho avuto qualche secondo per prepararmi direi a me piace molto Le Train il treno che è un un romanzo che vede un uomo che attraversa la Francia con un periodo di guerra e vive una storia d'amore un profugo sostanzialmente che vive una storia d'amore ma anche le volées verdes le gelosie verdi e che è la storia di un attore come si dice larger than life un uomo eccessivo un uomo ingombrante e di cui però Simenon riesce a toccare l'anima lui diceva andare all'home to new di toccare proprio l'essenza dell'anima umana senti ma tu hai imparato di più da Durematt che ce l'hai qua o da Simenon? da Simenon devo dire e anche forse se vogliamo l'autore svizzero che più assomiglia a Simenon è Friedrich Clauser che negli stessi anni sostanzialmente con il suo commissario Studer della Polizia di Bern lui è pubblicato da Sellerio in Italia faceva storie dello stesso tipo più legate ai sapori agli odori ai colori e Durematt è più intellettuale se vogliamo e adesso vediamo sei un grande commissario sai fare gli interrogatori? beh sì insomma lascio parlare gli interrogati è così che si fanno ecco l'importante è che tu non faccia il giudice allora abbiamo due vittime per te sono Cristina Cassarscaria e Bruno Morchio e ovviamente se la Cristina non si ammazza lungo le scale e sale le faccio anche un super omaggio anche a lei da parte del sindaco che è il premio per la tua serata divertitevi applausi teniamo per dopo la domanda sul romanzo di Simone non preferito così cominciamo a parlare dei nostri ospiti vi ripresento di fatto non sono propriamente sul palco ma mi pare di intravederli lì nascosti nella nella folla nel pubblico lei è una poliziotta lavora a Catania si chiama Giovanna Guarrasi detta Vanina e credo che non veda l'ora di uscire a fumarsi una sigaretta in realtà e potrebbe tranquillamente offrire una sigaretta anzi dovrà offrirne una al nostro secondo ospite Mariolino Migliacci investigatore pure lui ma privato più o meno insomma molto scalcagnato genovese e mi pare di vederlo che è addosso un eschimo credo e si è tagliato forse i capelli finalmente e intravedo anche un altro investigatore di Genova Bacci Pagano un po' più disincantato un po' più ci guarda con ironia rassegnato a sorbirsi un po' di chiacchiere visto che sono timidi e restano dal pubblico a noi tocca accontentarci degli autori e non possiamo far parlare direttamente i personaggi però andiamo al dunque ci soffermeremo in particolare sui romanzi Il re del gelato di Cristina Cassarscaliam pubblicato da Einaudi e La fine ignota di Bruno Morchio edito da Rizzoli ma insomma poi parlando di questi parleremo appunto dei protagonisti dei personaggi non ricordo quale autore forse me lo sono inventato io diceva che per immedesimarsi nel proprio personaggio bisogna immaginare come reagisce quando entra in una sala piena di gente che non conosce è per quello che li ho immaginati qui mi chiedo Cristina se tu hai mai provato a immaginare Vanina come potresti incontrarla nella vita reale ma se io dopo i libri scritti con lei dopo tanto lavoro di immedesimazione me la trovassi davanti che cosa ci diremmo? io cerco di immaginarla sempre in realtà perché quando scrivo i libri in personaggi ce li ho sempre un po' davanti a volte mi succede anche di immaginare un po' il dialogo quello che è lo immagino come se fosse recitato dai personaggi stessi quindi io spesso Vanina me la immagino me la immagino in mezzo alla gente e avremmo io penso che litigheremmo su alcune cose probabilmente ma io la vedo credo che lei si scoccerebbe anche parecchio in alcuni contesti in cui potrei portarla io per esempio dietro di me a un congresso medico penso che veramente sarebbe fuori a fumare tutto il tempo diciamo che immaginare i propri personaggi in mezzo al mondo reale è il modo migliore per renderli reali per tratteggiarli in un modo più possibile realistico certo perché alla fine soprattutto i romanzi che ci si porta dietro i personaggi che ci si porta dietro per più romanzi assumono quella consistenza reale di persone che potremmo incontrare qui nel re del gelato si racconta degli inizi dell'esperienza a Catania di Vanina e per certi aspetti ha già tutte le caratteristiche che hanno appassionato tanti lettori ancora non è in confidenza con gli altri personaggi e questo che meraviglia stupisce chi lo legge perché ritrova gli inizi insomma ancora non la chiamano capo che credo è un aspetto mutuato da Simo e no nel senso che i collaboratori più stretti potevano chiamarlo capo e qui anche Vanina alla fine di questo romanzo darà il permesso a qualcuno di chiamarla capo però dicevo già dorme poco è affamata ha i suoi fantasmi si presenta insomma già fin dagli inizi è strutturata come poi lo sarà in seguito anche se c'è naturalmente un'evoluzione Allora parto dal capo perché questo è veramente un omaggio a Simenon un mio omaggio a Simenon perché in realtà il commissario Meghere è stato il primo personaggio di un giallo letto da me che ho letto la prima volta a 16 anni quindi ci sono proprio cresciuta con i libri del commissario Meghere e nonostante io abbia un'età che in realtà con quegli sceneggiati non c'entrerebbe niente in realtà ho adorato gli sceneggiati con Gino Cervi quindi sono anche un po' cresciuta con questa immagine di Meghere con quella faccia con quel modo di fumare la pipa che era di Gino Cervi poi hai divorato diversi romanzi di Simenon in un'estate se ho letto bene sì perché in realtà ma quello è stato veramente un caso è stato il caso per cui io ho conosciuto Simenon era un'estate avevo 16 anni era un'estate agosto noto quell'epoca noto non c'era una libreria aperta ad agosto assolutamente quindi se i libri che avevo finito erano finiti basta non sapevo più che fare a quel punto per cui ho cominciato siccome ho avuto la fortuna di avere sempre a casa grandi librerie strapiene sono andata a cercare nella libreria di mia madre e ho trovato quella che c'era nella casa di campagna ho trovato dieci libri del commissario Meghere e ho cominciato a leggere quelli e da quel momento in poi non mi sono più fermata e di torno al capo in realtà il motivo per cui io faccio chiamare capo Vanina e poi in realtà certe volte ho cercato di immaginare ma forse sarebbe meglio farla chiamare capa però proprio in realtà dicevo però però Meghere era capo allora immaginavo Luca che chiamava capo Meghere eccetera e allora a quel punto ho detto vabbè a spanò deve chiamare Vanina capo così ho fatto alla fine quindi è questo questa è la fase in cui Vanina appunto non aveva nessuna insomma poca confidenza ancora con i suoi con la sua squadra ed era un momento abbastanza particolare della vita di Vanina l'ho voluto scrivere l'ho voluto tratteggiare un pochino perché partendo da sabbia nera in effetti Vanina si incontra già così cioè già in un certo contesto e si incontra in un momento in cui c'è un cambiamento importantissimo nella sua vita per due incontri che fa in quel libro che sono quello con Paolo Marfitano che li rincontra dopo aver praticamente convinta di averlo dimenticato insomma quasi per quattro anni capisce che non ha dimenticato niente e l'incontro con Patanè che succedono tutte e due in sabbia nera allora ho voluto raccontare ma come era Vanina prima quando stava a Catania da poco quando era appena arrivata da questo suo giro di fuga da Palermo e a proda a Catania cosa che per un palermitano è un ripiego è un ripiego forte davvero per Catania non è che è una cosa da poco quindi ho voluto raccontare Vanina appena arrivata a Catania con questo caso che poi era un caso in realtà che avevo svolto in un racconto e quindi unito un po' queste due esigenze ho creato questo libricino piccolino che proprio pertenevo quindi ho presentato ai miei lettori Vanina come era prima ed è vero che questo mette in difficoltà quando si consiglia da quale libro cominciare perché uno dice beh comincia da sabbia nera però effettivamente si potrebbe anche cominciare l'ordine cronologico interno fa sì che si cominci da questo Bruno Morchio abbiamo detto ho intravisto ben due dei tuoi personaggi qui nascosti nella folla Bacci Pagano è protagonista di numerosi romanzi probabilmente è ben conosciuto anche dai lettori qui mentre Mariolino Migliaccio al centro della fine ignota è al suo esordio non credo sia facile ripartire da capo con un nuovo personaggio dopo che un altro lo sia rodato a lungo oltretutto nella stessa città nella stessa atmosfera quindi in qualche modo bisogna anche distinguerli e come è stato ricominciare con un nuovo personaggio e soprattutto perché questa scelta? intanto buonasera a tutti mamma mia quanti siete siete veramente tanti paganti oltretutto perché sapete che in Italia non succede mai non si dà questa cosa qua che ci sia tante persone così paganti per venire a sentire me insomma poi magari crea una certa responsabilità orca miseria vabbè vabbè dunque io devo dire che da un po' di tempo sentivo il bisogno di di fare questa operazione perché in realtà io scrivo in prima persona quindi il personaggio la voce narrante è quella del personaggio e allora questo mi da un lato si potrebbe dire mi limita perché se tu scrivi un mar un romanzo crime insomma il fatto di mantenere sempre un singolo punto di vista e essere inchiodato a quel punto di vista può essere limitante d'altra parte io ho provato anche a scrivere un po' in terza persona ma mi sono accorto che non è molto congeniale è chiaro che quando i miei romanzi raccontano di baci baci potrei dire come Flaubert perché in realtà è nato più o meno quando sono nato io si è fatto l'esperienza del 68 si è fatto lui si è fatto un po' di carcere io per fortuna l'ho scampata però più o meno diciamo la parabola storica e biografica ci sta è lui no? noi siamo gli ex baby boomer quelli col culo al caldo quelli che sono nati e quindi la voce di baci è la mia voce sostanzialmente insomma quando mi sono voluto misurare io prima di questo romanzo ne ho scritto un altro per i soli in cui la protagonista è addirittura una ragazzina di 17 anni nata e cresciuta in Val Polcevara cioè nell'unica vera periferia della mia città e qui mi devo immedesimare dove crollano i sogni dove crollano i sogni sì c'è questa Blondi che è una criminale tremenda incallita anche però con buoni sentimenti insomma come tutte le persone non è tutta nero tutta bianca e lì ho fatto un lavoro un lavoro perché anche lì Blondi parla in prima persona poi sono approdato a Mario Lino non è facile entrare nella pelle di un personaggio che è così lontano da te cioè uno che ha 33 anni che vive diciamo l'esperienza di una generazione senza protezioni no? cioè noi volevamo fare la rivoluzione e a questi gli abbiamo regalato una società che fa schifo però identificarsi parlare con la sua voce per esempio quindi c'è stato anche un problema che riguarda la lingua perché Pace Pagano è la mia lingua quella che usa lui Mario Lino mica tanto quindi però era una sfida era una sfida anche perché io volevo fare due cose con questo personaggio da un lato appunto raccontare questa generazione cioè la generazione dei trentenni quelli che che arrivano al mondo del lavoro oggi in un mercato che è totalmente precarizzato e dall'altro lato anche fare un'operazione sulla struttura del giallo perché? perché gli investigatori per definizione diciamo se noi andiamo da a parte quelli del giallo classico che mi interessano poco però diciamo da Chandler in poi no? sono comunque dei persone tutte in un pezzo sono eroi senza macchie senza paura c'è un famoso romanzo di Chandler che avrete letto che è lungo addio dove per tutto il romanzo gira un medicine cioè una banconota la più alta banconota credo degli Stati Uniti e lui alla fine non lo spende questo medicine ecco Mariolino è uno che vive in una pensione dove è indietro con con l'affitto è un orfano la madre gliel'hanno ammazzata gliel'hanno ammazzata a un cliente perché faceva la prostituta riceve i clienti è un abusivo non ha licenza riceve i clienti in un bar della città vecchia Mariolino è uno che se sbaglia o lo fanno fuori oppure si ritrova a dormire nei cartoni sotto un ponte e i nostri ponti poi non è che sono non abbiamo neanche la senna come dire allora in quella condizione lì un investigatore privato può essere un eroe senza macchie senza paura no non lo può essere e allora il gioco era quello di riuscire a costruire una trama crime che rispettasse un po' la realtà perché poi in realtà l'investigatore privato in Italia non ha avuto tantissima fortuna come come figura no e comunque è un lavoro molto sporco dell'investigatore privato non è un lavoro pulito gli investigatori privati normalmente non sono come Philip Marlowe quindi lui fa un lavoro sporco e in quel contesto lì però riesce anche a dare come dire dare vita a dare a a quegli impulsi generosi che pure sono dentro di lui quindi io ho cercato di fare questa operazione non è stato facilissimo però mi sono divertito un casino infatti c'è questo aspetto di sfida perché i mezzi per riuscire a indagare non li ha Mariolino insomma non ha nessun mezzo tecnologico non ha soldi non ha un'automobile si trova sempre con l'acqua alla gola è una sfida anche narrativa riuscire a escogitare una trama nella quale lui alla fine possa arrivare a qualche cosa e questa trama senza raccontarla è successo dicevi che non sono tanto i gialli classici a ispirarti in effetti la situazione dell'investigatore con la madre prostituta ricorda anche beh oltre a Melchior ricorda Harry Bosch insomma di Connelly anche questo è un modo insomma per mettere una ferita nel passato del personaggio infatti lui poi oltre a risolvere il caso cerca anche cerca anche di capire il motivo per cui è diventato investigatore capire anche cosa è successo da sua madre mentre Cristina nel tuo caso l'ispirazione è anche un po' rivolta al giallo classico alla certo simonò abbiamo detto Shasha Sherbanenko Magheta Agatha Christie Conan Doyle poi non so io il fatto che Vanina ama bere latte a me ha sempre anche ricordato l'Archie Goodwin di Nero Wolf sarà un caso ma sono gli unici due investigatori che conosco che bevono latte e Nero Wolf tra l'altro il primo investigatore buongustaio prima ancora di di Pepe Carvaglio insomma il giallo classico è una fonte di ispirazione sì assolutamente anche perché fa parte moltissimo della mia cultura letteraria giovanile che poi secondo me è quella che un po' forma di più quello che il substrato di uno scrittore perché è quello che poi sempre viene un po' fuori io credo che un pochino venga sempre fuori poi qualcosa di quello che hai letto soprattutto di quello che hai letto da ragazzo da giovane io mi sono trovata per esempio quando ho scritto la salita dei saponagli a un certo punto mi sono resa conto che avevo infilato dentro qualcosa di pirandelliano in quel libro tanto che infatti poi ho utilizzato proprio una frase di pirandello sulla citazione e la e ho detto ma come mi è venuta fuori questa cosa qua perché era veramente pirandelliana e ho detto ho pensato sì probabilmente davvero viene fuori quello che tu hai letto da giovane i miei sicuramente i miei libri gialli che ho letto nella mia vita sono stati molto più gialli classici che 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 thriller o che noir ecco sicuramente quindi fanno parte tutti quegli autori di giallo classico che avevi proprio citato tu più aggiungo Camilleri io ci sono abbastanza cresciuta con il commissario Montalbano anche se devo dire che non ho cominciato a leggere Camilleri da Montalbano anzi ho cominciato dagli altri libri poi solo successivamente ho letto ho letto quei romanzi del commissario Montalbano quindi sì è molto molto importante la il giallo classico invece nei miei e va anche come struttura perché quando io ho cominciato a scrivere gialli perché prima non avevo mai scritto anzi avevo sempre immaginato che scrivere gialli fosse difficile forse proprio il terzo romanzo poliziesco esatto primi due non c'entrano proprio niente con quello che ho scritto non c'entrano niente l'uno con l'altro non c'entrano niente con quello che ho scritto dopo cioè con con la serie di di Vanina però quando eh l'idea che mi era venuta era così forte perché il cadavere del montacarichi io col montacarichi di sabbia nera in realtà l'ho visto proprio con i miei occhi perché era nella villa che avevano appena ereditato dei miei amici ed era una villa a Catania si direbbe sgarrupatissima cioè significa che era proprio veramente in condizioni brutte eh c'era questo montacarichi antico montacarichi che questo mio amico ha aperto quando l'ha aperto io mi sono immaginata dentro un cadavere mummificato a quel punto lì ho detto bene ho capito che la storia che devo raccontare è quella di questo cadavere mummificato può essere solo un giallo e mi sono inventata questo personaggio che ho creato come mi sarebbe un personaggio che mi sarebbe potuto mi piaciuto molto trovare in un libro da lettrice quindi ho usato un po' questo questo metro quando mi sono trovata a scrivere un giallo che è successo che ho detto qua però è una è un'operazione difficile andando avanti mi sono resa conto che io un po' l'impalcatura del giallo probabilmente ce l'avevo ed era quella del giallo classico assolutamente quindi se dovessi dire a cosa tu hai esserti ispirata e probabilmente sia tutti i gialli classici nei quali infilo molto quelli di Shasha anche se non sono mai stati considerati dei gialli perché Shasha non è mai stato considerato un giallista ma i gialli che ha scritto Shasha secondo me sono fenomenali quindi e sono dei libri che ho letto e riletto diecimila volte e sono sicuramente dei libri a cui probabilmente mi ispiro quando scrivo molto un'altra cosa sulla quale vorrei poi coinvolgere entrambi è la questione della lingua insomma spesso ci si chiede del contenuto della trama a noi autori e in fondo però noi lavoriamo con la lingua il nostro strumento di lavoro e un fin dal fin da sempre insomma ma soprattutto poi dal fin dal 1500 un autore italiano deve chiedersi in che lingua scrivo e c'è chi ha fatto un lavoro per purificare la lingua per arrivare a una lingua essenziale di recente ho letto le memorie di Carlo Goldoni e diceva insomma io come faccio a fare delle PS in una lingua che sembri parlata senza usare il veneziano in italiano ha dovuto costruire un italiano che sembri parlato spesso gli autori di Polizieschi hanno fatto quasi un percorso opposto sono partiti da una preponderanza di libri scritti in italiano e hanno invece dovuto restituire una parlata regionale che per carità è sempre stata una tradizione nella letteratura italiana forse l'esempio che poi anche nel Poliziesco di Gadda resta un grande esempio Cristina anche tu lasci che il siciliano abiti queste pagine e addirittura poi ci sono questo elenco magari possiamo spiegare delle catanesate in cui si si scopre in questo romanzo che chiamano montagna all'Etna e nel primo nel primo paragrafo del del primo romanzo ufficiale nel primo tracolo di sabbia nera si parla proprio della montagna quindi c'è anche non solo tu lasci accogli il siciliano nelle due pagine ma la protagonista riflette anche in un certo senso sulla lingua sì perché in realtà il punto è un altro la protagonista non è catanese è palermitana sì è stata un'esperienza dura la Sicilia non è anche dal punto di vista linguistico dal punto di vista culturale dal punto di vista gastronomico da tanti punti di vista la Sicilia non è una la Sicilia è tante sono tante ci sono tante Sicilie diciamo che per comodità nei miei libri le divido in due macro aree che sono la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale con città di riferimento Catania Palermo ma in realtà sarebbe molto più complicato di così però ecco diciamo che i due punti più estremi Catania e Palermo Banina e Palermitana vive a Catania e comincia a apprendere tutta una serie di modi di dire modi di fare anche un po' abitudini dei catanesi e le chiama catanesate si fa un elenco le chiama catanesate e non è in realtà una riflessione sul siciliano è una riflessione sul catanese che è diverso e quindi da una fatto da una palermitana in una fase in cui Banina è ancora molto palermitana perché è vero che se n'è scappata da Palermo che è stata a Milano però Banina è palermitana dentro in modo abbastanza importante in quella fase di ancora Catania non era diventata quello che poi diventa cioè il posto in cui lei vive nel modo più sereno possibile che nel suo caso è difficile però lei a Catania tutto sommato si è trovata una nicchia un po' di serenità che lì ancora non ce l'ha questa nicchia addirittura ha gli scatoloni per terra a casa non ha una libreria non ha ma neanche dove appoggiare la 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 cornice con la foto di suo padre l'ha appoggiata su una sedia perché non sa dove metterla quindi è in questa fase qua e invece riguardo alla lingua alla tua scelta di in fondo non è obbligato Shasha per esempio non ha fatto questa scelta di accogliere il siciliano nei suoi libri tu avevi in mente fin dall'inizio questo o è stata una cosa su cui hai riflettuto no io ho fatto io ho cercato nei libri questi libri qua ho cercato di riportare più possibile il mondo che sembrasse quello reale allora ci sono dei personaggi personaggio patanè personaggio spanò stesso che anche se sanno parlare benissimo l'italiano nella norma nella vita di tutti i giorni molto probabilmente soprattutto con le persone con cui sono molto in confidenza tireranno fuori sempre delle frasi in siciliano nella parlata siciliana ecco la realtà sarebbe questa allora io uso questo metodo io faccio parlare in siciliano e rispettivamente in catanese o in palermitano perché sono due siciliani diversi i personaggi che nella realtà parlerebbero in catanese o in palermitano vanina che è una persona che invece magari non parlerebbe in siciliano ogni tanto mette dentro il termine siciliano il modo di parlare dei siciliani ma non parla in siciliano mentre alcuni personaggi ecco io mi regolo così è solo nei dialoghi ed è solo nei dialoghi di personaggi che parlerebbero in siciliano nella vita di tutti i giorni questo è quello che ho fatto e devo dire questo noi tutta questa regionalizzazione dei nostri gialli la possiamo fare perché Camilleri ci ha aperto la porta perché io credo che alcune alcune frasi dei miei libri alcune non so se sarebbero state mai accolte se prima non ci fosse stato Camilleri ad aprire la strada questo è anche un vantaggio con grande difficoltà perché ha avuto anche tanta grande difficoltà lui ad aprirsi la strada per quello poi è un vantaggio in particolare nell'usare il siciliano perché ormai l'abbiamo imparato tutti anche se il suo siciliano è il vigatese è una cosa un po' diversa dal siciliano però lui ha creato anche una lingua una cosa proprio però sicuramente il resto oltre al siciliano c'è anche i personaggi anche quando parlano in italiano l'uso del passato remoto si vede che sono intrisi del parlato siciliano è più facile dicevo perché comunque una differenza per esempio tra Il re del gelato gli altri romanzi di Cristina Casascalia e quelli di Bruno Morchio è che tu non hai bisogno di tradurre le frasi normalmente in effetti si capiscono perché c'è un'abitudine in fondo al siciliano anche fuori dalla Sicilia se io dovessi scrivere in dialetto ticinese per dire molto simile al milanese ma poco capito nel resto dell'Italia o Bruno con il genovese io vedo che tu quando inserisci il genovese quasi sempre poi lo traduci perché non è comprensibile in più qui ti sei reso la vita ancora più difficile inserendo l'albanese che immagino non sia una lingua che conosci infatti poi nei ringraziamenti citi la persona che ti ha aiutato inserendo anche lo spagnolo quindi c'è proprio una sperimentazione linguistica e anche nel caso nel caso dello spagnolo qualcosa non traduci ma nel caso dell'albanese chiaramente ogni frase quindi bisogna anche avere tenere il ritmo però ripetendo le cose due volte e immagino che dal punto di vista proprio del laboratorio della scrittura questo non sia facile sì noi diciamo con il genovese non solo non abbiamo avuto un camilleri che ci abbia spalancato le porte ma noi abbiamo il paradosso di una lingua mi viene dialetto poi dopo mi insultano tutte le volte che dico dialetto perché dicono ormai c'è una grammatica ci sono i dizionari ormai è una lingua non è un dialetto però è tanto una lingua che quando uno la legge non la capisce un genovese che legge il genovese non lo capisce non lo capisce assolutamente se riesce foneticamente a ripeterselo nella testa allora poi sì che capisce se sa il genovese però di primo acchito ci sono tutta una serie di vocali che è la O che va pronunciata U poi ci sono i segni diacritici gli accenti insomma molto difficile io ho sperimentato molto di più in questo libro di quanto non abbia fatto in quelli precedenti dove c'erano parole genovesi ma in genere erano già messe in corsiva poi alla fine spesso c'era un glossario e davano colore più che altro qui no qui ho voluto fare un'operazione un po' diversa perché dunque quello che mi interessava perché oltre a quello che si diceva c'è anche romanesco c'è e c'è soprattutto poi anche l'italiano parlato dall'etnia che è che è differente perché il modo in cui parla in italiano per esempio un servo un croato un albanese è diverso dal modo in cui lo parla un sudamericano hanno proprio due due e io che vivo nel nella città vecchia dove c'è questo melting pot linguistico e e quando senti parlare senti un po' tutto di di tutto un po' in questo modo ho voluto provare a renderlo ovviamente facendo diciamo mutatis mutandis quello che aveva fatto Camilleri cioè è chiaro che poi tu tutto questo lo devi letterarizzare perché non c'è niente diciamo di più letterario che un dialogo che sembra naturale quando lo si legge su un libro in un libro in realtà vuol dire se sembra naturale vuol dire che lo scrittore ci ha fatto un lavoro un grosso lavoro di 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 letterarizzazione proprio di per poterlo rendere sulla pagina scritta che ti sembri parlato perché se ci metti il parlato nella pagina scritta diventa illegibile lo dimostra l'illegibilità delle intercettazioni telefoniche quando vengono pubblicate che sono veramente quasi incomprensibili sono incomprensibili sì sono due codici completamente diversi e io ho cercato di ho provato mi interessava e credo che su questa serie continuerò su questa strada poi naturalmente molti mi hanno detto ma perché hai metti la traduzione la traduzione la metto in fondo in nota perché sarebbe una tragedia ma la metto vicino poi di solito sono frasi molto brevi forse se non la mettessi si capirebbe lo stesso io ho qualche dubbio che sul genovese si capirebbe lo stesso ma c'è il contesto beh c'è il contesto però insomma però ho voluto provare a rendere diciamo letterariamente restituendo anche un po' alla letteratura secondo me quello che è un suo status cioè la letteratura la letteratura è lingua prima di tutto è scrittura e quindi secondo me va recuperata quella dimensione lì va va recuperata ovviamente letterariamente perché non si può recuperarla in un altro modo poi volevo dire un'altra cosa perché qui ne va la pelle io non credo che Simenon sia un giallista classico cioè non non l'ho mai visto così ma neanche nei Maigret cioè credo che in realtà in fondo nei Maigret lui rovescia il paradigma dei romanzi duri però sostanzialmente poi il modo in cui Maigret arriva a scoprire la verità è molto è molto po' diciamo c'è anche lì la rivoluzione che rompe gli schemi del del giallo classico a mio parere anche perché poi in Maigret secondo me non c'è serialità non so cosa ne pensi la nostra nel senso che ogni romanzo è un nuovo romanzo è una nuova indagine il fuoco è tutto sull'indagine sulla serialità cioè su se ha un cognato se ha un fratello se ha un cugino se ha una moglie sui suoi ispettori che compaiono un po' così però in realtà non c'è molto da dire hanno poca storia i personaggi che ruotano quello che conta è l'indagine lui è lì che punta il fuoco e questo secondo me rende i suoi romanzi straordinari perché ogni volta legge un romanzo nuovo insomma si ha scritto dei romanzi con il primo caso di Megret oppure Megret in pensione però li ha scritti in ordine sparso come se volesse insomma sperimentare il raccontare Megret in quello in quello stadio però non c'è una sequenza e in effetti leggendo il il genovese mi sono detto che spesso la traduzione nel testo aiuta sicuramente con l'albanese inevitabile qui c'è anche il caso poi del protagonista di Mariolino che finge di essere un albanese a un certo punto e quindi lui parla con l'italiano parlato dagli albanesi ecco questo mi sembra quasi una figura dell'autore che appunto si prova con le varie lingue e volevo provare a fare una figuraccia e cioè di solito quando io sono un appassionato degli incipit dei libri e quindi quando presento dei romanzi mi piace sempre vedere come cominciano ma qui c'è una frase in genovese subito all'inizio ma visto che il libro ce l'ho io provo a leggerlo io quindi vediamo che mi schianterò l'inizio perché secondo me nell'inizio si nasconde sempre il cuore di tutto il romanzo anche perché è un punto che l'autore cura particolarmente qui comincia con un dialogo in cui dei poco di buono stanno parlando del protagonista che riesce ad ascoltarli tramite non do i dettagli perché poi gli spiega ma riesce ad ascoltarli tramite un microfono che è riuscito a lasciare lì un telefono che è riuscito a lasciare lì e comincia direttamente quel fetente tiene un gran fiuto e non lo sa io invece dico che lo sa no non farebbe la vita del barbone metterebbe a frutto il capitale assomiglia a sua madre se l'angelo del marciapiede il giovane lozzo si crede furbo e ridacchia eh lavanda sospira il vecchio una testa fina e che donna bella e calda come il sole di luglio ma dai capo si è fatta mangiare tutto da un marcione tossico e gli ha pure fatto riconoscere il figlio e allora le vere bagasse hanno il cuore tenero per questo i clienti continuano a cercarle sono la consolazione dei poveracci non ce la faccio cazzo proprio non ce la faccio a sopportare la filosofia spicciola casciurte da tombin de sto jata che esce dalla bocca di questo pappone di merda quando blattera sulla mamma ma non devo perdere la concentrazione l'obiettivo è capire se me lo sta mettendo nello streppo ecco io trovo che da questo incipit poi lo lascio commentare a te ci sia in qualche modo c'è questa vivacità questo dialogo l'attenzione subito sul protagonista e sul suo passato e i piani linguistici che si intercalano e anche questo parlare nell'osservazione che fa il protagonista dopo il dialogo si sente che ha subito una sua voce che certo non è la voce di baci pagani sì certo è una voce ringrazio per non far commenti sul mio genovese no no ma l'hai detto devo dire che su audible a volte sento di peggio quando leggono i miei libri bene allora mi console soprattutto sugli accenti non ne azzecano una ora voglio vedere questo come faranno perché dovrò dargli una consulenza penso perché è inevitabile nel senso no io qui cercavo appunto di rendere da subito diciamo mettere subito il lettore in media stress cioè vedere subito che l'ambiente nel quale andava a muoversi e appunto l'uso anche l'uso di questa frase genovese ad autunbinde del giotà giotà vuol dire pappone sostanzialmente in genovese è proprio funzionale a a rendere proprio questa questa atmosfera che è un po' l'atmosfera di tutto il libro che è un libro giocato su situazioni che diventano sempre più intricate e paradossali dove il lettore dice vabbè ma ora come farà a uscirne questo qui perché non ha strumenti non ha mezzi è disperato eppure lui riesce ha un fiuto tale per cui riesce alla fine a uscirne insomma è più che risolvere casi è scogita stratagemmi più che risolvere enigmi si potrebbe dire sì sì poi risolve anche qualche enigma nel senso che comunque alla fine scopre che cos'è che c'è dietro su tutta questa vicenda però fin dall'inizio lui capisce intuisce diciamo che appunto glielo stanno mettendo nello streppo cioè che in realtà quello che gli fanno vedere non è la realtà non è quello che davvero è successo vediamo allora qui non c'è credo il siciliano all'inizio quindi me la posso calare le prime gocce si erano palesate alle 5 del mattino precedute da tuoni e fulmini che pareva si stesse aprendo il cielo una dopo l'altra sempre più consistenti sempre più frequenti fino a fondersi in uno scroscio dal rumore simile a una cascata una bomba d'acqua di quelle serie che in tre minuti avrebbe ridotto Catania a un unico corso d'acqua completo di rapide dighe naturale e laghi artificiali con tanto di automobili galleggianti il vice questore aggiunto Giovanna Guarrasi detta Vanina aprì gli occhi di colpo balzando sul materasso il cuore in gola per il boato che aveva appena scosso i vetri un'esplosione aveva temuto il suo inconscio di sbirra prima che il cielo fuori dalla finestra si illuminasse a giorno producendo un tuono ancora più roboante di quello che l'aveva appena svegliata e mostrando la cortina d'acqua che si stava abbattendo sul paese di Santo Stefano l'allarme di una casa vicina iniziò a suonare senza più smettere quello che mi ha colpito di questo incipit ma poi mi dirai è che in qualche modo si immagina una Catania trasfigurata con questa visione quasi un po' fantastica delle dighe naturali laghi artificiali le automobili galleggianti e in fondo poi nel romanzo succederà un evento che all'inizio sembra un evento non tremendamente delituoso che però corre sulla bocca di tutta Catania ecco e poi c'è questo allarme della casa vicina che sembra che inizia a suonare e sembra vabbè non è una cosa grave che è successa suona per via del temporale però intanto c'è un allarme che suona quella scena iniziale era una scena che ho voluto a certe volte a me piace giocare un pochino sul smontare i luoghi comuni sulla Sicilia allora spesso mi succede di infilare giornate freddissime in questo caso siamo in pieno agosto e c'è un temporale di quelli pazzeschi cosa che in effetti ad agosto succede soprattutto la seconda parte di agosto in Sicilia prima più che adesso infatti poi per una volta che dormiva eccetera quindi ho raccontato e mi piace anche raccontare un pochino le criticità della città ecco quello che tu hai immaginato come questa 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 immagine un pochino fuori dalle righe eccetera quella è un'immagine reale non è un'immagine fuori dalle righe le automobili gallegge questo succede costantemente quando c'è la bomba d'acqua che negli ultimi anni devo dire che purtroppo succede sempre più spesso però Catania ha due problemi uno è quello che ha una gestione che purtroppo non è che sia proprio eccezionale quindi i tombini non vengono puliti per bene quasi mai con l'aggiunta che ogni tot l'Etna ci mette del suo perché comincia a cadere quella sabbia nera che io ho messo nel primo libro che praticamente li riempie o comunque li ottura per cui quella immagine lì è un'immagine reale non è un'immagine è quello che succede l'altra cosa che succede dell'allarme che suona eccetera è una cosa tipica che soprattutto avviene nei paesi più che più che a Catania e Vanina vive in un paese vive in un paese alle pendici dell'Etna in un temporale di questo genere al 99,9% dei casi salta ovviamente non c'è va via la luce quindi cominciano a suonare anche gli allarmi quindi è tutta un'immagine tutta un'immagine in realtà proprio abbastanza abbastanza reale però crea un'inquietudine è certo in realtà non ha una vera ragione di essere no in realtà in quel momento assolutamente no se non di disturbare l'unico sonno che Vanina stava facendo in modo normale e sperava di fare come a lei piace perché poi Vanina è una che è un po' come me non riesce a dormire la notte però poi dovrebbe recuperare la mattina non lo può fare ovviamente mette un sistema complicato di svegli esatto perfetto e sveglie l'ultima in cucina perché altrimenti così si deve alzare per andarla a spegnere tutte cose che conosco molto bene perché in realtà altrimenti lei continuerebbe a dormire perché deve recuperare quello che è sempre in debito di sonno in realtà poi alla fine e questa è proprio un'immagine di una nottata così tipica di quando succedono queste cose qua e poi Catania ne piange le conseguenze per tutti i giorni successivi perché succedono tutta una serie di cose che succedono anche in questo libro ovviamente che scusatemi se ogni tanto va via la voce ma sono così anzi diciamo che speravo di riuscire a recuperarla perché fino a due giorni fa ero completamente afona e quindi dicevo questo succedono tutte queste cose succedono veramente ecco poi in questo libro ma in tutti gli altri forse in questo anche di più perché si parte da un caso che sembra una piccolezza adesso lo diciamo c'è una una grande abilità da parte dell'autrice che ritroviamo anche nei romanzi di Bruno e che secondo me è una caratteristica dei polizieschi in generale l'importanza della quotidianità si pensa no che un autore di polizieschi debba scrivere scene madri ma in realtà le scene madri sono facili da scrivere ma il segreto dei grandi autori è proprio la quotidianità la luce che cambia in una stanza il filo delle ore di attesa ecco c'è molto la quotidianità della protagonista quello che mangia come tutti i suoi come in tutti i romanzi è proprio il susseguirsi delle cose normali e anche il caso qui all'inizio sembra non dico una bazzecola però niente di che ma infatti lei quella prima cosa che dice a spanò quando la chiama le dice che c'è questo caso dice ma perché ce ne dobbiamo occupare noi che le dice che in una gelateria in una delle gelaterie di questo re del gelato che era questo questo agostino lo monaco famoso a Catania un re del gelato sono state trovate in alcuni gusti di gelati delle pillole pillole che ovviamente sono state poi deglutite dalle persone che chiaramente è successo un macello perché queste persone poi sono andate al pronto soccorso preoccupatissime insomma sono partite denunce nei confronti di questo agostino per tentato avvelenamento questo agostino come spesso succede per fare prima invece di chiamare magari il 113 ha chiamato l'ispettore spanò perché lo conosceva e quindi spanò si è trovato nella condizione di dover andare lì anche se lui è un ispettore della mobile della sezione reati contro la persona della mobile diciamo che normalmente ci si occupa di omicidi fondamentalmente in quella sezione e lui però si è trovato lì e chiaramente vanina che già ha rinunciato a un settore molto importante della polizia che è quello della criminalità organizzata per volontà propria si trova a occuparsi di omicidi cosiddetti comuni e le sta benissimo però di occuparsi delle pillole nel gelato insomma le sembra un pochino eccessivo poi in effetti però ci ripensa perché dice io altrimenti dovrei starmene con le mani in mano e siccome per lei starsene con le mani in mano è la cosa peggiore che le possa capitare non tanto perché sia una stacanovista quanto perché per lei è l'unico modo per non cadere nel loop dei pensieri del suo passato insomma quindi alla fine della storia poi accetta anche questo e dice vabbè spano andiamo facciamo però effetti comincia come fosse un caso davvero davvero molto banale si rivelerà non così immediatamente infatti ci saranno un fior di complicazioni ma di queste non vogliamo parlare però volevo accennare la questione della memoria Banina ha dei fantasmi li ha fino in fondo da questo suo primo apparire appare già provvista di fantasmi c'è una bella scena a un certo punto in cui sta lì di notte seduta e poi vede il telefono silenzioso che si illumina perché arriva qualche notifica e vede il salvaschermo che da anni è occupato da un'immagine e in fondo lei tiene questa immagine sul salvaschermo però le evoca dei ricordi che le fanno male e quindi dice dopo tutti quegli anni passati a dimenticare di staccarsi da tutto invece non si è staccata dal passato una grandissima autosomministrata presa per i fondelli e è bella questa idea che insomma l'inquietudine venga da un salvaschermo e riflette il peso che ha la memoria per questo personaggio fin da questo romanzo è un peso importantissimo quel salvaschermo è il salvaschermo in cui c'è la daura la daura è una per chi non lo sa è una una scogliera è una una zona di palermo che va in praticamente tra la città e mondello che è tutta una zona di scogliere eh dove ci sono molte case mh una del una casa in una villetta della daura Vanina aveva vissuto un periodo con con il suo con il suo grande amore che era questo magistrato della di via di palermo che lei poi aveva deciso di lasciare ehm però questo salvaschermo della daura lei non l'ha mai tolto lei ha deciso che doveva distaccarsi da questo magistrato perché perché altrimenti rischiava di rivivere la la peggiore esperienza della sua vita che era quella di avere purtroppo di avere assistito all all'uccisione di suo padre all'omicidio di suo padre per mano mafiosa eh a quattordici anni quindi si era sentita veramente impotente di fronte a quella cosa ed era il motivo per cui è diventata un buon poliziotta perché aveva deciso che lei non doveva mai più essere impotente davanti a queste cose qua e doveva prendere tutti quelli che avevano ammazzato suo padre quei quattro che avevano ammazzato suo padre eh questo è la diciamo questa è la grande il grande peso che c'è nel passato di Vanina e che non di cui Vanina non si libererà mai ed è un peso che io le ho dato il peso della memoria Vanina io l'ho dato perché ho usato un pochino anche la storia di Vanina perché io quella memoria lì volevo che venisse fuori perché il padre di Vanina è un polizio era un poliziotto ucciso dalla mafia negli anni inizio degli anni novanta in quella fase che poi sarebbe così sarebbe culminata nelle stragi di mafia del novantadue ecco io ehm ricordo di avere avuto questi quest'idea di 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 dare a Vanina quel passato quando ho visto per la prima volta la lapide che c'è alla mobile di Palermo dove ci sono tutti i nomi dei 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 poliziotti della mobile che sono usati uccisi eh sono caduti in servizio sono caduti tutti per mano mafiosa questi tutti e tutti in un periodo storico che va dalla fine degli anni settanta agli primi anni novanta in realtà ecco infilato dentro il padre di Vanina è stata un po' una scusa per raccontare quel pezzo di storia l'ha gliel'ho data pesantissima davvero questa 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 questo peso a Vanina eh e se lo porta dietro dal dal primo libro nella serie però qui ho voluto raccontare vedi quello che tu hai letto un attimo fa e nella fine alla fine del libro perché lei in realtà la sensazione di essersi auto somministrato una presa per i fondelli ce l'ha dal momento in che è arrivata a Catania perché eh fino a quando lei è riuscita a sessere veramente lontana anche dalla Sicilia eccetera e eh si era convinta che ce l'avesse fatta in realtà tornare a Catania già le aveva aperto un attimo di nuovo ehm la 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 ferita quello schermo della daura le fa capire che forse lei è convinta che si è dimentica di aver dimenticato scappando in realtà aveva deciso di dimenticare ma non è che si dimentica a comando e quindi in effetti poi in sabbia nera succede che lei di questo si rende conto veramente perché quando vede la la in televisione che che è stato eh si parla di una di una minaccia di attentato a Paolo Malfitano lei ha la stessa reazione che avrebbe avuto se fosse stata con lui fino al giorno prima quindi e questo è la memoria di Vanina è pesantissima influisce su tutto quello che fa in effetti anche l'espressione un'auto somministrata presa per i fondelli non è male perché chi nella vita non se ne ha non se ne ha auto somministra e in fondo un lato in comune fra i due protagonisti è questo appunto il la morte del padre e la morte della madre invece di Mariolino è un è un tratto che 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 li accomuna e anche in fondo la memoria ha un peso anche in genere nei romanzi di baci pagano e anche in altri ma anche qui la memoria personale del protagonista e anche qui c'è un grande spazio alla quotidianità a ciò che il protagonista mangia lui ha ama quando ha un po di soldi ama spenderli ecco direi che una cosa che percorre tutto il romanzo proprio come nel filo della quotidiana sono i soldi il fatto di averli di non averli di come spenderli il fatto molto genovese si dice di averli ma di non voler mostrare che si hanno insomma questa questa ricchezza nascosta beh sì è vero il io devo dire che nella mia testa il personaggio di bario migliaccio è nato da una lettura casuale cioè un amico di roba mi ha regalato un libro che era uscito con minimum fax che è giovanni sei stato felice di giovanni arpino ambientato nella genova del dopoguerra e c'è questo personaggio probabilmente quello di arpino un po' più giovane del mio del mio mario migliaccio ma più o meno insomma che è costantemente attanagliato dalla fame così mario è costantemente attanagliato da un lato dalla fame ma proprio dalla fame perché 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 lui non avendo nessun nessuna fonte di reddito certa diciamo quando può è messo a malo partito va a scaricare casse per un per un verduraio noi lo chiamiamo besagnino marocchino al mercato della frutta però insomma per lui il diciamo la conquista di un pasto è davvero una conquista quindi chiaramente sul cibo lui investe ma non investe come un gourmet perché in realtà poi è anche un impiastro da quel punto di vista cioè portina il barbaresco col pesto una roba che non si fa baci pagano non lo farebbe mai no? però è proprio il fatto che essendo il cibo un qualcosa che può esserci o non esserci nel momento in cui c'è diventa e questa fame è anche una fame un po' più ampia una fame di vita è una fame di di rapporti perché lui è drammaticamente solo di amore lui ha questa figura di questa giovane prostituta che viene dalle piccole antille si chiama Fatima della quale lui è innamorato ma lei lo schifa ma lo schifa perché lui si lava poco vive in questa pensionaccia terribile non ha mai un soldo insomma l'igiene personale lascia un po' desiderare diciamo lui è un po' respingente e quindi lei lo tratta malissimo come lo trattano male un po' tutti quindi lui ha anche una fame di riconoscimento perché in realtà non è uno stupido non è neanche un incolto perché paradossalmente è la mamma che lo ha traumatizzato nel momento in cui è morta insomma lui arriva da scuola l'ultimo anno di liceo e la trova morta ma lo ha traumatizzato non volendolo anche perché lui se ne stava in cucina a fare i compiti mentre la mamma in camera si portava i clienti quindi ha un background molto pesante questo lui davvero è affamato di vita è affamato di vita e contemporaneamente fa i conti con una situazione che rischia continuamente di gettarlo nel baratro o addirittura di fargli la pelle perché nel momento in cui si mette al servizio di un gangster sia pure un gangster che aveva una grande stima una grande considerazione della sua mamma però insomma quello è uno che ci mette poco a farti fuori e quindi lui vive sempre in questa situazione diciamo di costante precarietà di costante precarietà e l'attenzione al quotidiano diventa fondamentale perché negli interstizi del quotidiano lui riesce a trovare qualche momento diciamo di pace di relativa pace perfino di rivalsa rispetto a questa situazione così così degradante e per cui credo diciamo che questa attenzione alle minuzie viene anche proprio dalla necessità di estrarre quella goccia di buono che si può estrarre in una situazione così così deteriorata insomma lui questo fa insomma in effetti nella sua storia c'è anche spesso abbiamo messo in evidenza anche degli aspetti drammatici ma c'è anche un'allegria in fondo che lui ha dentro di sé e anche una piacevolezza la lettura di entrambi questi romanzi sono due romanzi meravigliosi e si parlava di fame ma siccome si parla di fame sapevo che a parte la cucina che vuole sapere a che ora si va a mangiare è vero che tu hai affamato di vita eccetera però entrambi i personaggi sono anche molto affamati di cibo ecco allora intanto vorrei che faceste un grande applauso per Andrea Pazzioli Cristina Cassarscalia e Bruno Morchio domani sera abbiamo Moira Bubola che intervisterà Valerio Varesi e Davide Longo la cena di questa sera è tutta siciliana e vi do un consiglio tecnico non fate scappare la Cristina immediatamente perché Cristina poi verrà accompagnata a Milano non sale su per cui chi non avesse avuto qualche copia dei suoi libri autografata fatelo adesso all'ingresso mentre Bruno e Andrea stanno con noi tutta la sera quindi potete stufarvi di loro visto che saranno su intanto grazie per essere venuti e grazie a voi per aver partecipato grazie e un grande applauso a Ina Marchi che è stata con noi all'inizio dell'incontro e non scordate di chiedere loro qual è il loro romanzo di Simo e Non preferito non l'abbiamo fatto ma quello poi ve lo fate dire mentre vi filmano le copie intanto buon appetito potete andare su tranquilli e chi invece ha fame di cultura fatevi firmare i libri grazie Grazie a tutti.